Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, reati in diminuzione nel Pescherese nel 2016 e nei primi quattro mesi del 2017. Questo dicono i numeri diffusi oggi dall'Arma dei Carabinieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara. Paolo Renzetti. Nel 2016 e nei primi quattro mesi del 2017 si è registrato un calo della delittuosità in provincia di Pescara. Quasi l'80% dei reati e delle denunce riguardano la zona costiera. Lo ha detto questa mattina presso il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara il colonnello Marco Riscaldati illustrando i dati riguardanti il controllo dell'intera provincia da parte dei suoi uomini. I dati ufficiali ci dicono che c'è un trend di delittuosità in calo nel primo quadrimestre rispetto al medesimo del 2016 ma anche del 2016 rispetto agli anni precedenti. Questo però, attenzione, lo vorrei sottolineare. Non significa che l'attenzione sul territorio scemi anche perché siamo consapevoli che c'è un numero di delitti anche che a volte non viene denunciato. E quindi questo porta a un marginale aumento di fatto della delittuosità sul territorio. Purtuttavia, siccome la nostra azione si orienta sui dati che sono a nostra conoscenza, devo dire che in questo senso la lettura è positiva. Il territorio della provincia di Pescara, ma ritengo anche dell'Abruzzo, si caratterizza proprio da questa diversità profonda tra i centri che sono sulla costa e i centri che sono nell'entroterra. La delittuosità costiera rappresenta all'incirca l'80% di quella totale dell'intera provincia e ritengo che questo sia un fatto che possa essere assimilabile anche alle altre province dell'Abruzzo. Per questo motivo l'attenzione è massima in questi comprensori, per cui attraverso anche la guida del Comitato per l'Ordia della Sicurezza Pubblica e con il partnership dei comuni interessati stiamo avviando e stiamo studiando un progetto ampio e speriamo il più efficace possibile di videosorveglianza. Il colonnello Riscaldati ha anche annunciato poi che la festa dell'arma si terrà il 5 giugno a Campobasso. E anche in provincia di Chieti i reati sono in calo, resta da porre comunque la massima attenzione sulla fascia costiera, in particolare sui furti, reati particolarmente odiosi per la popolazione. E' un trend decisamente favorevole, un trend che non ci sorprende perché non è certamente dell'Abruzzo ma è dell'intero territorio nazionale ma che viene replicato specularmente anche qui in Abruzzo. Il merito di questo è un miglior coordinamento delle forze di polizia e uno sforzo corale di tutte le forze di polizia che sono presenti sul territorio. Ovviamente questo discorso va fatto relativamente comunque a una situazione che viene tenuta costantemente sotto controllo di tutta la provincia e che ovviamente può talvolta provocare qualche allarme seppur ovviamente comprensibile ma non giustificato. La fascia costiera è assolutamente un territorio che viene costantemente monitorato e attenzionato da parte nostra. Non a caso è un territorio dove le forze, l'organico, almeno quello dell'arma dei carabinieri, viene tenuto sempre e costantemente al massimo livello anche col sacrificio di altri reparti che ovviamente hanno delle situazioni dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica certamente migliori della nostra. Peraltro come ho già detto è previsto nel corso da quest'anno in poi un gettito a livello nazionale di carabinieri che andrà a coprire anche taluni buchi che comunque non sono sulla fascia costiera ma stanno altrove che sono stati però determinati dal blocco del turn over, il famosissimo blocco del turn over che tutti conoscete. Dove non ci sono le stazioni una iniziativa del comando della legione Abruzzo è stata quella di istituire questi punti di contatto, così sono stati chiamati, ovvero delle pattuglie che in orari e in giorni determinati si recano nei comuni dove non c'è presente la stazione e pur svolgendo il loro servizio di vigilanza sono pronti a richiesta del cittadino a recarsi in un comune, in un locale a loro messo appositamente a disposizione per ricevere le denunce che i cittadini possono fare. Incidente mortale questa mattina a Penne nella zona Portacaldaia dove una donna di 80 anni è stata investita da un'auto Peugeot condotta da una donna, l'anziana presa in pieno è stata sbalzata sull'asfalto ed è deceduta praticamente sul colpo. Ai sanitari del 118 arrivati subito sul posto le condizioni della donna sono apparse subito gravissime, poco dopo sull'ambulanza la donna è espirata. Inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso da Pescara. Sulle cause dell'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Penne coordinati dal luogotenente Maurizio Perilli. E poi ancora a Castel di Sangro in tre sono entrati in casa di un anziano per rubare soldi e preziosi. Davanti alla ferma reazione del proprietario il quale svegliato dai rumori li ha affrontati, i tre malvimenti hanno reagito colpendolo con calci e pugni lasciandolo esanime sul pavimento. Quindi sono fuggiti via. Preso dal rimorso uno di loro è tornato indietro raggiungendo la caserma dei carabinieri per autodenunciarsi e denunciare i suoi complici. E' accaduto appunto la notte scorsa a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila dove tre cittadini di origine rumena, un quarantenne, un 36enne ed un 32enne, tutti residenti nel comune del Sangrino, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto e lesioni gravi. Mentre l'anziano malmenato, anche lui di Castel di Sangro, dopo essere stato soccorso e viste le sue gravi condizioni, è stato trasferito all'ospedale di Terramo per essere sottoposto a intervento chirurgico alla testa. Ed ora la politica. Le donne del PD a sostegno del candidato sindaco di Benedetto, ieri in occasione della festività del 2 giugno all'Aquila, la presentazione delle candidate democratiche alle prossime elezioni comunali. Le donne democratiche a sostegno di Americo e di Benedetto sindaco per portare freschezza, sorrisi, giovinezza e ovviamente anche professionalità nella lista. La presentazione nel giorno della festa della Repubblica e non a caso nell'anniversario del voto alle donne. Alcune alla prima esperienza di candidatura, altre forti del lavoro nei consigli territoriali, altre amministratrici uscenti della giunta a Cialente. Proprio oggi si celebra l'anniversario dell'ottenimento del voto alle donne insieme alla nascita della Repubblica. Noi abbiamo voluto attorniare il nostro candidato sindaco, Americo di Benedetto, delle candidate della lista del PD che sono un'effervescenza, una forza, un'energia straordinaria, esperienze che si sono mescolate alla freschezza delle giovani professioniste, l'esperienza di chi ha compiuto nel mandato precedente con Massimo Cialente, l'assessore e il vicepresidente del Consiglio, con donne che fanno per la prima volta un'esperienza politica candidandosi. Il PD le donne le elegge, questo differenzia un po' noi in senso positivo da altri. Io sono senatrice, ci sono altre donne nelle regioni, ci sono donne nei comuni e l'unica eletta del PD in questo Consiglio Comunale. Non le usiamo noi le donne, noi le valorizziamo. E quindi abbiamo voluto dare anche questa bella occasione oggi di visibilità alle nostre candidate assieme al candidato sindaco. Speriamo bene, c'è la novità per la prima volta qui all'Aquila del voto con due preferenze, si possono esprimere due preferenze e deve essere un uomo e una donna. Quindi anche questa è un'occasione per promuovere il talento femminile. Per il candidato sindaco Americo Di Benedetto la presenza delle donne nella lista la rende ancora più forte e bella. È stata una bellissima mattinata nella ricorrenza della festa della Repubblica. Il PD ha presentato le sue candidate, lo ha fatto con la bellissima intuizione della senatrice Stefania Pezzopane. Apriamo questo coinvolgimento femminile anche a tutte le altre liste perché ci sono tante altre candidature e credo che sia un momento importante di coinvolgimento della città, la città delle pari opportunità. Sono convinto che in Consiglio Comunale al prossimo mandato di sindaco ci sarà una grande presenza femminile e credo che sia utile per la città, per me e per il conforto che solo la delicatezza delle donne riesce a portare in qualsiasi tipo di iniziativa, ancora di più se è un'iniziativa amministrativa e politica come quella del governo della città. Questa mattina invece in conferenza stampa è intervenuto il candidato del centrodestra all'Aquila, Biondi, al centro dell'attenzione il progetto Case e le ultime affermazioni del sindaco uscente Cialente. Vengono segnalati i problemi al progetto Case, nessuno se ne cura, anche nella fattispecie alcuni, tipo il consigliere Tinari ha detto che le segnalazioni in ordine al problema lì del progetto Case che è stato sgomberato erano state fatte nel 2014 e nel 2015, arriviamo ad oggi che il progetto Case, Cialente ha detto quando mi compro la macchina non apro per verificare, come va detto a voi non l'apro per verificare se sta tutto a posto, ma se dopo sette anni non ci fa la revisione, non ci cambia l'olio, probabilmente la macchina pure se è perfetta quando l'hanno consegnata salta per aria. Dopodiché ad oggi, visto che iniziasse a reperire, a recuperare, non farà più a tempo lo faremo no, intanto a verificare quanto di quei 4,4 milioni di euro sono ancora disponibili. Seconda cosa, si vada a ricercare negli uffici del comune le polizze fedeliussorie perché le polizze vengono contratte con le banche, se anche la ditta è fallita, la polizze è comunque valida perché quelle hanno pagato, se andasse a ritrovare le polizze, facesse l'escussione delle polizze, incamerasse le somme e con quelle somme si fa la manutenzione del progetto case e dopodiché naturalmente si dovrà andare a ricontrattare con il governo delle somme che unitamente a quelle che vengono trasferite per l'assistenza tecnica e per tutte le spese accessorie, diciamo, che non riguardano espressamente, direttamente la ricostruzione privata e la ricostruzione pubblica, si ritratterà con il governo per avere le necessarie risorse che serviranno per mantenere in piedi il progetto case fin quando che si deciderà che saranno terminate le incombenze con le ditte che hanno montato, per esempio, i pannelli sui tetti e forse quando sarà finito questo si porrà decidere se in maniera selettiva abbattere le piastre del progetto case che non presentano i requisiti di durevolezza necessaria. Presentato questa mattina a Palazzo di Città a Pescara il piano urbano della mobilità sostenibile elaborato dal settore mobilità e sviluppo del territorio e approvato dalla Giunta lo scorso primo giugno. Programmare la mobilità in senso sostenibile nel medio e lungo periodo è un strumento che ci chiede l'Unione Europea che diventa fondamentale per accedere ai fondi di qualsiasi genere anche sul trasporto pubblico locale perché è questa la svolta che le grandi città, ci metto anche per scala per le grandi città, devono fare, si attende che facciano. È un piano dei piani come dicevo prima nel senso che dentro questo vanno coordinate tutte le azioni che ci sono in materia di infrastrutture della mobilità, di piste ciclabili, soprattutto trasporto pubblico locale e quindi al centro del nostro piano come era nell'atto di indirizzo che è un po' quello che precede questo piano che facemmo qualche mese fa. C'è il tema fondamentale del trasporto pubblico locale su sede propria quindi sostanzialmente la filovia che deve diventare la grande infrastruttura di trasporto che libera molto traffico automobilistico quindi sposta la mobilità moltissimo, il trasporto pubblico locale e consente anche di andare molto più forte sull'obiettivo della ciclabilità e anche della mobilità pedonale. Noi in questo piano diciamo che vogliamo raggiungere un modal share, cioè un rapporto tra l'uso dell'automobile privata e gli altri mezzi di trasporto e di mobilità del 50%, che è un obiettivo ambizioso ma tutto sommato alla portata di una città come Pescara, che è una città pianeggiante dove c'è spesso bel tempo. Chiaro che c'è molto da fare, c'è un cambio culturale ma con questo credo che l'abbiamo avviato insomma. Ci saranno una serie di piste ciclabili per riconnettere quelle esistenti, migliorarle e anche andare in zone dove attualmente non ci sono. Quindi i tempi saranno tempi però che sono appunto di medio e lungo periodo per vedere diciamo la Pescara del 2027 che noi desideriamo, cioè con molte meno macchine che girano, molto meno inquinamento, più spazi per camminare e andare in bicicletta, velocità nel muoversi con i mezzi pubblici. Ci vorrà del tempo ma penso che già stiamo cominciando sulla filovia. Non dipende solo da noi naturalmente, dipende in gran parte da altri enti. Noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e stiamo lavorando insieme alla Regione e alla tua perché la situazione si sblocchi e possiamo finalmente avere quest'opera che ripeto forse è quella fondamentale per cambiare le abitudini nella nostra area metropolitana. Si è celebrata stamani a Montesilvano la cerimonia di consegna delle bandiere verdi a 134 comuni italiani. Il riconoscimento va a quelle città le cui spiagge sono giudicate a misura di bambino. La giornata apre il calendario degli eventi estivi del comune adriatico. È Montesilvano ad ospitare la cerimonia di consegna delle bandiere verdi. Un grande vanto per il comune adriatico in occasione della decima edizione di una manifestazione che intende dare riconoscimento a quei comuni italiani le cui spiagge sono a misura di bambino. A scegliere le città meritevoli della bandiera verde è un comitato tecnico scientifico di pediatri al cui capo c'è il professore Italo Farnetani, presidente e ideatore della bandiera verde. Sono 134 i comuni premiati oggi al Paladin Martin di Montesilvano laddove gli specialisti della materia hanno anche parlato di tutto quanto va fatto per avere litorali che vadano in contro i bisogni dei più piccini e alle precauzioni che vanno presse tra le altre cose per proteggerli da una eccessiva esposizione al sole. Montesilvano è uno dei tre comuni abruzzesi assieme a Vasto e Giulianova che dal 2010 riceve la bandiera verde. La soddisfazione del sindaco Francesco Maragno. È un riconoscimento che ci fa piacere ricevere, ancora di più ci fa piacere avere organizzato a Montesilvano la consegna delle bandiere verdi per le 134 località italiane. Questo serve a dare prestigio al nostro territorio, è una bella vetrina per far capire a tutti che abbiamo delle spiagge attrezzate a misura di bambino, abbiamo delle acque cristalline e riusciamo a voler proporre il nostro prodotto che è l'ospitalità per famiglie in tutto il contesto nazionale ma ci auguriamo anche fuori dai confini italiani. Oltre alla consegna delle bandiere l'intera giornata è caratterizzata da una serie di eventi che il comune di Montesilvano ha realizzato assieme a diverse associazioni delle iniziative per coinvolgere le famiglie in quella che risulta essere una sorta di festa di inizio estate. Esibizioni, sfilate, stand e mercatini sul lungomare e in particolare sul pontile e nel teatro del mare. Questa mattina al comune di Pescara è stato presentato il contratto di quartiere per la ripresa dei lavori degli alloggi comunali ubicati in via Tronto, lavori che sono fermi da anni. È un'opera ferma da diverso tempo, era partita nel 2001 ma poi ci sono stati decontenziosi quindi adesso riparte l'opera che prevede complessivamente un importo di 11 milioni di euro di cui una parte già sono stati spesi e quindi sostenuti in relazione al precedente costruttore quindi adesso terminate tutte le incombenze e risolte tutte le questioni riparte il tutto con una nuova gara che ci consentirà di concludere l'opera, ci auguriamo, nell'arco di un anno e mezzo, due anni al massimo. L'altro giorno proprio ai nostri microfoni aveva parlato delle iniziative che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per le periferie, periferie che soffrono di diverse problematiche di ordine sociale. Sì è vero, le problematiche di ordine sociale connesse a quelle che riguardano l'abitazione quindi le case, le case popolari sono due temi che stanno particolarmente a cuore a questa amministrazione. Per quanto riguarda l'aspetto sociale certamente noi abbiamo tutto il tema e il discorso delle periferie che stiamo affrontando e affronteremo nei prossimi mesi grazie all'erogazione dei fondi del MIT e che consentiranno proprio un'attività di riqualificazione delle periferie quindi non solo dell'area che chiamiamo cosiddetta Arancitelli ma anche dell'area di Via Caduti per Servizio, area Zanni e sono tutti interventi di carattere sia sprettamente sociale di animazione del territorio e contestualmente anche rispetto alle infrastrutture. Quella che vediamo qui oggi appunto è il contratto di quartiere che riguarda Via Tronto è invece un'opera che è partita come vi dicevo precedentemente e che veramente da tanto tempo la città attende nella sua conclusione. Proprio tre giorni fa abbiamo approvato in giunta proprio la ripartenza dei lavori. Cambiamo pagina, si sono aperte questa mattina le celebrazioni per la tradizionale festa di San Zopito all'Oreto a Prutino in provincia di Pescara. domani mattina come da rituale le sante messe e poi il percorso tradizionale del bue tra le vie del centro storico. Il servizio di Vestina News. Sindaco Stranieri a Loretta a Prutino torna alla festa di San Zopito un rito molto solenne e molto voluto dai cittadini di Loretta a Prutino. San Zopito è il patrono dei loretesi, un rito molto seguito ormai sono più di 300 anni che San Zopito è il patrono di Loretto e oltre al rito religioso ricorre il rito del bue che non è folklore ma è una cultura dell'oretese, una cultura dei bovini che nel cristianesimo ricorre spesso. C'è stato anche un importante convegno in questa giornata e come tutti gli anni oltre alle celebrazioni religiose ci sarà il bue che con la compagnia dei vetturali saranno presenti nelle vie del paese davanti alle chiese ed in piazza alla fine durante la giornata di domenica e invece a seguire della messa delle 18 ci sarà la processione con il bue che farà la ginoflessione in piazza. Una festa di San Zopito che ha riscoperto negli anni la cultura del bue e di questo bovino. Sono stato tra i fautori di un convegno di docenti di diverse università italiane. Per orgoglio magari si credeva che la cultura dei bovini era prettamente di Loretto, invece grazie a Gianfranco Spitili un antropologo di Teramo che ha iniziato a studiare qui il rito di Loretto ma che coinvolgendo tutte le tradizioni che sono presenti possiamo dire ormai in tutta Europa sta scoprendo che è un qualcosa che va un po' più all'indietro quindi nella cultura, possiamo dire cristiana stiamo imparando questi giorni probabilmente è un rito che viene da molto più lontano. Scopo di chi si occupa del bue a Loretto è quello di approfondire questa conoscenza. A Pineto due giorni dedicati al mondo della bicicletta con il Cerrano Bike Expo senza dimenticare il tema fondamentale della sicurezza stradale testimonial dell'evento l'ex velocista Alessandro Petacchi Jacopo Forcella Una o due giorni dedicata agli appassionati delle due ruote una vetrina lungo il percorso del bike to cost ma con un occhio sempre rivolto alla sicurezza soprattutto di questi tempi si è aperto il Cerrano Bike Expo che si snoda tra il Parco della Pace a Pineto sulla pista ciclabile e lungo le vie della cittadina adriatica una fiera della bicicletta per rappresentare le numerose discipline nel mondo dei pedali e un'occasione anche per tanti espositori del mondo bike un evento inserito all'interno del progetto Biciclettica la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e che da anni vede operare in sinergia i comuni del Cerrano Roseto, Atri, Silvi e appunto Pineto Oggi il tema della giornata portato all'attenzione è stato proprio il tema delle piste ciclabili e su questo stiamo lavorando e ci stiamo concentrando perché se da una parte parliamo di mobilità sostenibile parliamo di ambiente, parliamo di salute parliamo anche di economia perché spostarsi in bici sicuramente è più economico parliamo di inquinamento perché meno inquinamento in bici dall'altra parliamo di sicurezza perché di sicurezza stradale nello specifico perché accadono davvero tanti drammi per le strade e quindi quanto più saremo bravi a creare dei percorsi riservati ai ciclisti e ai pedoni e più andremo a ridurre questi numeri che poi ai noi ci portano ad avere anche perdite diciamo durante l'anno e all'interno della Due Giorni Spazio anche per una pedalata per uno dei testimonial della manifestazione l'ex campione Alessandro Petacchi ne ha approfittato per fare un giro sulle strade della costa abruzzese ieri ho fatto dalla partenza del monumento di questa ciclopedonale che sta per essere terminata hanno detto ci vorrà ancora un annetto e mezzo è una bella iniziativa 130 km di ciclopedonale sono veramente tanti è importante per la sicurezza sicuramente del ciclista del pedone purtroppo in Italia tutti i giorni ne succedono tante anche durante il Giro d'Italia abbiamo visto quello che è successo sono brutte purtroppo tante volte siamo un po' poco rispettati capisco che magari abbiamo fastidio in certi momenti qui ho notato un po' le strade rotte questo ti porta magari a evitare la buca andare un pochino più in mezzo alla strada può dare ancora più fastidio all'automobilista però nel rispetto di tutti credo che fare un'iniziativa così e promuovere questa cosa questa ciclopedonale è molto importante e questo servizio ci introduce alla pagina dello sport parliamo di Pescara inserimento del Foggia tra il Pescara e il centravanti Simone Gans così i biancazzurri ora stanno facendo più di un pensiero sull'attaccante del Frosinone Dionisi trattativa però tutt'altro che semplice Federico Dionisi è il nome che infiamma il mercato del Pescara in queste ore reduce da un'ottima stagione sotto l'aspetto individuale ma non coronata dal pronto ritorno in A con il Frosinone Dionisi ha un profilo ideale per essere il centravanti del tridente di Zeman suggestione o trattativa concreta? certamente per i ciociari non sarebbe il massimo cedere un pezzo così pregiato ad una potenziale concorrente per la vittoria del prossimo campionato cadetto probabile che se Dionisi lascerà il Frosinone possa andare in un club di Serie A l'entourage del Delfino può sempre contare sull'effetto Zeman specie per un attaccante che sa quanto il Boemo valorizzi il gioco d'attacco e quanto sia agevole per un buon centravanti fare grandi numeri per Dionisi si tratterebbe di un ritorno in Abruzzo dove una decina di anni fa ha mosso i primi passi nel Celano trattativa dunque non semplice ma pista che il Pescara non vuole abbandonare visto che sul primo obiettivo per l'attacco Simone Andrea Gans reduce dal prestito al Verona ma di proprietà della Juventus si è registrato il deciso inserimento del neopromosso Foggia di Stroppa per l'affaire Gans il Pescara però ha sempre la carta Colibali ma se ne riparlerà nei prossimi giorni il gioiellino della scuderia di Campi però è nel mirino di altre squadre di Serie A ad esempio la Sampdoria che dopo Torreira e Verre vorrebbe fare altri affari con il presidente Sebastiani e sta sondando Gaston Brugman e Francesco Zampano sul piatto i blucerchiati mettono alcuni prospetti come due ex lancianesi il centrocampista Michele Rocca e l'attaccante Federico Bonazzoli il centrocampista David Ivan ed il terzino svizzero naturalizzato bosniaco Daniel Pavlovic c'è mercato per Cristiano Biraghi dopo il Bologna anche il Torino ha chiesto informazioni sul difensore milanese fresco di nuova convocazione in nazionale in Lega Pro con l'arrivo di Sandro Federico sulla poltrona di direttore sportivo per il Teramo c'è da scegliere il prossimo allenatore in queste ultime ore sembra in vantaggio Giuseppe Maggi che ha guidato il Gubbio nell'ultima stagione ma il vero nodo da sciogliere saranno i tanti contratti che inevitabilmente pesano sulle casse societarie prima il direttore sportivo poi il tecnico e infine solo infine i giocatori di strada il Teramo dovrà farne parecchia e se il tassello iniziale con l'arrivo di Sandro Federico è a posto per la panchina la concorrenza si fa davvero folta questo perché alle spalle della candidatura principale quella di Ottavio Palladini che a richieste da Vastese Serie D e Juve Stabia Lega Pro si fanno avanti prepotentemente anche altri nomi il più caldo è quello di Maggi che quest'anno ha guidato il Gubbio e che in questo frangente pare salire alla ribalta in maniera evidente con Antonino Asta a contendergli una virtuale pole position insomma la coppia ex San Benedettese di essere allenatore non è più così scontato che possa riunirsi in bianco rosso anzi Maggi è apprezzato conosce la categoria e con gli Umbri ha fatto un piccolo capolavoro squadra non proprio da primi posti e che ha saputo traghettare fino agli spareggi persi inovinate con chi? proprio con la San Benedettese che ci aveva fatto anche un pensierino prima di virare su Francesco Moriero lasciandolo seduto e abbandonato il Teramo però potrebbe concedergli una possibilità di rilanciare il progetto diavolo un po' in declino per asta discorso simile tecnico giovane ma con buona esperienza e che è riduce da un'annata con più bassi che alti l'esonero a Salò e un'attesa che potrebbe presto essere ripagata una volta scelto anche l'allenatore con una conferenza stampa che Campinelli potrebbe indire già a fine della prossima settimana via al calciomercato nell'asse col Pescara oltre ai nomi dell'attaccante Polidore di Malocu la trattativa che sembra più calda è quella per Cristian Ventola giovane esterno di scuola del Fino reduce dalla stagione a Macerano con il suo arrivo a destra nel pacchetto arretrato le posizioni di Sales e Scipione imparato sarebbero in bilico ma la vera questione sarà abbassare l'impatto dei tanti contratti sottoscritti che rappresentano una zavorna per le casse societarie c'è da cercare una sistemazione a tanti o provare a trattare la risoluzione magari mettendo mano al portafogo quasi scontato che Amadio dopo il fallimento della Tina da svincolato rinnovi il matrimonio con i colori biancorossi mentre Dorazio tornerà dal prestito a Cosenza la vera mission di Federico dunque sarà a sfoltire l'organico di elementi che non sembrano più rientrare nel progetto tecnico insomma le cessioni prima che gli acquisti definiranno il successo o meno della campagna rafforzamenti estiva del diavolo e ora un ultimo servizio dedicato al calcio a 5 e alle code velenose dopo i fatti di gara 1 della finale scudetto tra Pescara e Luparenze con la Maxi Rissa che si è scatenata nel dopo partita oggi in un comunicato stampa diramato dal presidente del Pescara a calcio a 5 Danilo Iannasco lì si afferma che sono sospese tutte le attività sia di allenamento sia di partecipazione alle competizioni da parte della prima squadra e dunque è a rischio la gara 2 della finale scudetto prevista per mercoledì prossimo a Bassano del Grappa vediamo Ille Pescara a calcio a 5 potrebbe non presentarsi mercoledì 7 giugno alle 20.30 al Palasport di Bassano del Grappa per disputare la gara 2 della finale playoff scudetto del massimo campionato l'annuncio è arrivato dal presidente della società Bianca Azzura Danilo Iannascoli che attraverso una nota diramata dalla società ha comunicato la sospensione delle attività e della partecipazione della squadra da tutte le competizioni sportive in qualità di presidente del Pescara a calcio a 5 ha detto Iannascoli a seguito dei gravissimi fatti accaduti prima durante e dopo la gara 1 di finale playoff e connotati da aggressioni verbali e fisiche subite dai nostri dirigenti e giocatori e dall'ennesima inadeguata direzione arbitrale comunico ha detto ancora il massimo dirigente della formazione Bianca Azzurra che a partire dalla data odierna mi sento obbligato per tutelare la mia società nella persona dei dirigenti giocatori e tecnici che la compongono a sospendere sia gli allenamenti che la partecipazione a tutte le attività e le competizioni ufficiali della prima squadra come si ricorderà giovedì scorso dopo la fine di gara 1 sulle parche delle pala Giovanni Paolo II di Pescara si era scatenata una gigantesca rissa fra giocatori e dirigenti delle due squadre la rissa aveva richiesto l'intervento in campo delle forze dell'ordine finisce qui la seconda edizione del TG6 più tardi alle 23 la terza e ultima edizione giornaliera buon proseguimento con i nostri programmi e buona serata Grazie a tutti